Buongiorno, buongiorno, buon venerdì in questa piovosa Roma. Sì, è vero, però sicuramente tornerà il sole e guardandoci tornerà il sole nelle vostre menti. Sì, oggi puntata imperdibile, tante cose, parleremo di carriere alternative, carriere molto particolari, diverse. Torneremo forse a fare quattro passi di danza. Non lo so, vediamo se arriverà o no. Io sono molto preoccupato. Sei preoccupato? Sì, ricordando l'altra volta in cui sembrava un ciocco di legno appena tagliato in qualche bosco. Ma non è vero, Simone. È per questo che noi faremo tornare il nostro coreografo, perché alla fine diventeremo dei ballerini provetti. Speriamo. Però cominciamo subito. Iniziamo subito con l'informazione. L'attualità è un tema molto caldo di questi giorni. La decisione del nuovo governo Meloni di cambiare rotta per quanto riguarda la lotta contro il Covid-19. Questa rotta che poi si è, come dire, concretizzata nella decisione del nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, di reintegrare in servizio i medici e il personale sanitario, che nei mesi scorsi era stato sospeso per inadempienza all'obbligo vaccinale. Ecco. Sì, sì, ne abbiamo già cominciato a parlare ieri e oggi lo approfondiamo con il nostro giornalista Giovanni Manco. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovanni, buongiorno, grazie per essere tornato. Allora, sono 1878 i medici in totale che potrebbero rientrare al lavoro. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Secondo la comunità scientifica si tratta di un errore clamoroso e segnali molto pericolosi. E nelle varie regioni d'Italia ovviamente le polemiche stanno impazzando. Sì, anche perché oltre al fatto in sé c'è un problema anche di metodo che è stato attuato, nel senso che il governo ha deciso di procedere verso questa direzione senza convocare la conferenza Stato-Regioni. Sappiamo che in Italia la sanità è una materia a pannaggio delle regioni, quindi forse sarebbe stato il caso, prima di procedere, fare un passaggio in questo senso per le regioni. Il risultato che ne sta venendo fuori è quello caotico che hai descritto tu, Simone. Ci sono regioni che non intendono allinearsi all'indicazione dello Stato centrale. Penso alla Puglia, penso anche alla Campania. E quindi in questo senso la matassa rischia di diventare particolarmente attorcigliata. Credo sia un sintomo del modus operandi di questo governo che da quando si è insediato è come se avesse fretta di dimostrare cose, fretta di dimostrare anche cose di destra. L'ultima volta ci siamo lasciati con il concetto della continuità che se vale sul lato dell'economia, sui provvedimenti, sulle questioni più interne, il centro-destra fa il centro-destra e Meloni da questo punto di vista lo sta dimostrando. Sì, diciamo sono stati presi dei provvedimenti anche molto rapidi, magari ne parliamo dopo di un altro provvedimento, parliamo del reimpatto. Velocissimo, è stato preso. E qui scoppiano un po' le critiche, ma come? Abbiamo bisogno di Platax, il caro bollette, il caro energia e il primo provvedimento che viene preso è mettere una morsa ai re-party, comunque ne parliamo dopo insieme. Ne parliamo tra pochissimo. Come dicevi tu Giovanni, andiamo in Puglia e parliamo dell'assessore alla salute palese, il quale respinge la revoca di sospensione e mantiene fuori dal servizio i dieci medici del sistema sanitario regionale non vaccinati, i 103 dipendenti in tutto non immunizzati. Quindi ci sono regioni, anche la Campania come dicevi, che stanno prendendo una posizione molto netta. Sì, anche perché io credo che la scelta sia tra seguire la scienza o seguire la non scienza. È chiaro che le regioni, come abbiamo detto prima, hanno l'appannaggio della materia sanitaria e cercano di seguire la scienza. Questo mi sembra più che ragionevole. Il governo centrale forse mira, almeno strizza l'occhio alla non scienza. Perché? E questa è la domanda che dobbiamo porci. Per strizzare l'occhio a quella fetta piccola piccola di Novax che ci sono in Italia sotto il 5%, io credo sia abbastanza paradossale, guardate, io sono l'ultimo, anzi, sono completamente lontano dal trumpismo, però Donald Trump quando ha giustificato quel cambio di passo, perché all'inizio era anche no mask, poi a un certo punto ha iniziato a indossare la mascherina, ha detto, un vero patriota indossa la mascherina. Ecco, io sono lontano da tutto questo, credo che però Giorgia Meloni, che ha sempre rivendicato una certa identità nazionale a tratti anche sovranista, debba fare una scelta anche di patriottismo da questo punto di vista. Il patriottismo di chi è? E di quelle persone che si sono vaccinate, più del 90% di cittadini e cittadine italiane che si sono vaccinate per portare avanti la lotta al Covid. E tra l'altro ricordiamo, Giovanni, che l'Italia è proprio lo Stato che si è vaccinato di più in Europa. Sì, sì, ma infatti la risposta del nostro paese credo sia stata importante, è stato fin dal primo momento, fin da marzo, fin dal lockdown, quando eravamo qui in casa, la risposta è stata importante e responsabile e questo ci deve rendere orgogliosi. E appunto per questo, credo, per non vanificare il grande lavoro che abbiamo fatto anche in termini di rinunce cittadini e cittadine, vanificare con queste decisioni che vanno verso la non scienza. E io non me lo spiego, veramente. Eh sì, devo dire che è stata fatta una campagna vaccinale incredibile, nel senso... Il 27 gennaio del 2021 in avanti, tutti i giorni c'era un consiglio di andarsi a vaccinare. Qui dobbiamo ringraziare il nostro ex ministro alla salute, Roberto Speranza, che Giovanni ovviamente è totalmente contrario a quello che sta accadendo in questo momento, ha fatto più appelli anche alla Meloni di riconsiderare la sua posizione, la quale un po', ecco, non è stata molto pro-scienza. Guarda, in realtà paradossalmente anche Speranza, che per carità ha lavorato bene in un periodo complicato, in una situazione inaspettata, anche Speranza in realtà è un po' vittima dell'identitarismo, perché, se ci fate caso, è uno dei pochi che usa ancora la mascherina, pure in Parlamento. E forse anche quello è un'esasperazione, o quantomeno un voler comunicare un lato su cui stare. Le mascherine non sono più obbligatorie, non le usa quasi più nessuno, ne siamo quasi tutti contenti, almeno io sono contento, perché, insomma, la scomodività di indossare una mascherina l'abbiamo conosciuta sulla nostra pelle. Speranza è esasperata al lato opposto. Io credo ci siano delle zone di grigio nel centro, o meglio, il Covid non va più trattato con la gravità con cui andava trattato nel 2020, perché grazie a Dio ci siamo vaccinati quasi tutti, grazie a Dio la sua pericolosità è meno gravosa. Esatto, però non si può neanche far finta che non esista, e quindi, per fortuna, è stato rievocato l'altra indicazione che era no alle mascherine nell'RSA, per fortuna si è fatto un passo indietro da questo punto di vista, e poi c'è questa questione del reintegro dei medici che non si sono vaccinati, che, ripeto, la trovo paradossale, anche perché in Italia non c'è delle vaccinate obbligatorie. Giovanni, io però volevo chiederti una cosa, Simone, anche la Lombardia si è schierata contro il reintegro dei medici e dei sanitari non vaccinati, anche De Luca in campagna, ma la domanda che ti faccio è, Giovanni, ma secondo te è una scelta politica o una scelta etica? Ma, penso sia uno di quei casi in cui l'etica sposa l'indirizzo politico. L'indirizzo politico qual è? È quello che la pandemia va presa di petto, l'Italia va presa di petto fin dal primo giorno, e si è trasformata poi in una scelta epica, in quelle etiche, in quelle piccole rinunce che tutti noi abbiamo fatto, no? Non siamo più usciti di casa, abbiamo rinunciato agli affetti, abbiamo rinunciato, ci sono studenti, i lavoratori fuori sede che si sono fatti il lockdown da soli nelle loro casette e non sono tornati dalle famiglie. Questa è l'eticità. E io credo che, ripeto, questo... Adesso lo schieramento netto a no reintegrare i medici. Questo volevo sapere, è per seguire una scelta, una linea politica oppure perché è giusto seguire il fatto che loro non si siano vaccinati e quindi non possono stare a contatto con i pazienti. Io penso sia un perseguimento di ambo le cose, quindi una scelta politica che poi si è trasformato anche in una scelta etica, quindi per non vanificare tutto il lavoro fatto negli ultimi due anni. In passato. Giovanni, ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni in merito a questo. Prego, dalla regia. All'interno del decreto c'è una norma che riguarda il ministro Schillaci, il ministro della Salute, e che riguarda segnatamente gli operatori della sanità per i quali unici ormai in Italia era prevista la scadenza dell'obbligo vaccinale al 31 di dicembre. Voi sapete l'obbligo vaccinale è scaduto per tutti lo scorso giugno, se non vado errata. sopravvive fino al 31 di dicembre solo per gli operatori del comparto sanitario e noi abbiamo deciso di anticipare la fine di quest'obbligo al primo novembre, cioè a domani, perché questo ci consente di prendere 4.000 persone che attualmente sono ferme in un sistema sanitario che ha già un enorme problema di organico e rimetterle al lavoro. E quindi abbiamo, anche sulla base dei dati e della situazione, che il ministro Schillaci ovviamente spiegherà meglio di me, abbiamo deciso di anticipare la fine di questo obbligo. Così come invece confermiamo l'utilizzo delle mascherine all'interno degli ospedali, perché anche qui insomma ho letto notizie di ogni genere che però non corrispondevano a verità. Abbiamo sentito le parole del Premier Meloni. Giovanni, però in alcune regioni italiane le lettere sono partite per reintegrare i medici e i sanitari. Ad esempio a Torino ci sono 397 medici e odontoiatri non vaccinati che hanno ricevuto la lettera e anche a Genova. Quindi alcuni si sono schierati a favore? Certo, perché poi appunto c'è l'indicazione centrale che poi viene gestita internamente dalle varie regioni. Qualcuno si è allineato, qualcuno non vuole allinearsi, qualcuno impugnerà il provvedimento e quindi cosa ne verrà fuori? Ne verrà fuori quello che purtroppo, tristemente, ne è venuto fuori già negli ultimi due anni di pandemia, che alla fine sarà un po' una situazione di cani sciolti. Quindi alcune regioni si allineeranno, altre no. Quindi da questo punto di vista il rischio è quello della bagarra. Come è sempre stata negli ultimi due anni, anche in termini di riaperture, zone gialle, zone rosse, con i governatori, che poi, preso l'indirizzo centrale, hanno gestito la cosa in maniera interna. Esatto. Diciamo, abbiamo pareri molto discordanti anche in quel di Milano, lo spedale Gaetano Pini, perché se da una parte c'è chi dice che questa sarà una manovra no green pass, dall'altra c'è chi, come dire, afferma che sia un impasso necessario proprio per mancanza di personale. Quindi vediamo questo servizio. Un provvedimento del nuovo Ministro della Sanità, Schillaci, dispone il reintegro del personale medico-sanitario inadempiente verso l'obbligo vaccinale prima del termine della sospensione. Cosa ne pensa? Penso che bisogna tutti essere contenti di questa decisione perché quello che è stato fatto è incommentabile. Lo Stato non deve occuparsi della salute della gente, deve preoccuparsi della cura della gente che è ammalata. Ma dico anche che quello che è stato fatto che viene stimato da me, ammirato, è solamente una piccola parte perché se non cambia il contesto che permette a qualunque Ministro e Presidente del Consiglio di fare porcate o in una direzione o nell'altra l'Italia, i cittadini finiranno nel baratro. Quindi è cambiato il Ministro, siamo contenti, deve cambiare la Costituzione italiana che permette questo scempio delle libertà delle persone. Lo Stato deve tirarsi dietro. Prima viene lo Stato di diritto e dopo semmai il diritto dei burocrati e dello Stato. Io sinceramente penso che potrebbe essere anche una cosa utile in questo momento anche perché manca il personale quindi per far rientrare il personale che non può attualmente a causa di questi blocchi ci sarebbe bisogno. Non è forse passato un po' troppo poco tempo dalla pandemia per dotare una misura così importante? Ma per me no. Anche perché si parla di togliere pure l'obbligo delle mascherine a fine mese poi sinceramente non so se verrà prorogato però sembra che ormai sia passato abbastanza tempo. Mi sento francamente contrario perché contraddire subito una serie di provvedimenti presi in un momento così difficile per l'Italia in nome non capisco bene di quale principio liberista mi pare un'azione altamente discutibile poi anche nella sostanza inutile temo che sia un modo per farsi propaganda presso un'opinione no vax o no green pass che forse fa parte dell'elettorato che ha bandato al governo questa maggioranza diciamola così siamo ancora dentro una situazione che è in corso di evoluzione anche se è un'evoluzione ampiamente positiva a quanto sembra prendere un provvedimento che contraddice clamorosamente alcune linee del governo precedente sì è una forma di demagogia che probabilmente appartiene un po' a questa maggioranza ecco Giovanni hai sentito vari pareri alcuni discordanti cosa ne pensi Giovanni ma il film di Bogart l'ultima minaccia che aveva quella frase la stampa bellezza e questa è la democrazia bellezza quindi viva Dio ognuno ha la sua opinione però ecco la scienza è scienza perché non è opinione ma è sapere è episteme e quindi io penso che anche alla scienza bisogna seguire la scienza e quindi come ho detto in apertura mi perplime molto questa decisione mi perplime dal punto di vista scientifico non mi perplime dal punto di vista politico perché è chiaro che ci sia un intento chiaramente chiamiamolo ideologico identitario di un governo di centrodestra che ha sempre quando era l'opposizione non dico minimizzato ma alleggerito le questioni legate al Covid e ora che al governo persegue quello che era il suo posizionamento e quindi prende questa decisione che dichiara discontinuità eh sì però se facciamo anche un passo indietro quindi durante il discorso in occasione alla fiducia al governo la Meloni dice non abbiamo condiviso la mancanza di evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti presi è una dichiarazione è una dichiarazione forte comunque Giovanni evidenze scientifiche qua parliamo comunque di scienza all'inizio abbiamo iniziato dicendo parliamo di scienza mettendo in imbarazzo tra l'altro il suo attuale ministro della salute Schillaci che faceva parte del dei consiglieri del del CTS che hanno gestito la pandemia quindi potremmo rigerare la domanda c'erano evidenze scientifiche all'epoca in cui il ministro era Speranza perché spesso Meloni quando era l'opposizione diceva che molte delle decisioni che venivano prese non avessero evidenze scientifiche c'era anche l'attuale ministro di questo governo ministro Schillaci a prendere quelle decisioni quindi cosa è scientifico e cosa non è scientifico o meglio ci sono cose che sono scientifiche o non scientifiche a seconda di come conviene nel momento attuale questa è la domanda che potremmo rigirare al premier ma vediamo nel servizio le parole di Giorgia Meloni proprio riguardo a questo nel momento in cui era stata nominata premier lei e il suo governo discorso la fiducia ascoltiamo dopodiché sanità pubblica questo è un tema sul quale effettivamente io mi sono poco soffermata volentieri do qualche elemento in più penso che la sfida sia ovviamente superare l'emergenza ripristinare le prestazioni ordinarie noi abbiamo accumulato un grande gap sulle prestazioni ordinarie e credo che dobbiamo imparare dalla crisi pandemica cosa non ha funzionato nel migliore dei modi per correggerlo secondo alcune linee d'azione io credo che una di quelle linee d'azione debba essere la prossimità riportare la sanità verso i territori valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale coinvolgere il sistema delle farmacie nelle erogazioni di alcune prestazioni perché sono uno dei primi presidi ovviamente sul territorio c'è il tema dell'incentivo alla telemedicina alle cure domiciliari i presidi territoriali nelle aree interne tante battaglie che abbiamo condotto in questi anni e alle quali oggi ovviamente va data continuità io penso che per quello che riguarda la telemedicina gli ospedali debbano entrare a pieno titolo nell'era digitale la digitalizzazione della sanità rende ovviamente più agevole e più accessibile lo scambio tra informazioni massimizza i benefici per gli utenti bisogna migliorare la comunicazione tra ospedale e territorio ragioniamo di un unico software sanitario come il fascicolo sanitario elettronico e poi ebbene qui la Meloni parlava anche della digitalizzazione della sanità per rendere tutto più facile più fruibile abbiamo degli orari da rispettare abbiamo degli orari sì dobbiamo fermarci Giovanni ti fermi con noi continuiamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità a tra poco grazie a tutti